Buonasera amici, eccoci qua con il nostro ormai consueto appuntamento con la frutta e la verdura di stagione devo dire che però su febbraio ci sono poche novità rispetto a gennaio per cui confermo la presenza degli agumi i fogli di borraggio ne abbiamo visto in settimana che mi sono state donate da un caro amico se per quanto riguarda la frutta, mela e pera sono ancora presenti, tutti i cavoli i porri, spinaci, zucca, cardi, cicoria e sedono rava l'unica novità di febbraio che troveremo a fine mese però se il tempo lo consentirà saranno gli asparagi però ancora è un po' presto quindi aspettiamo ancora un po', vediamo un po' se il tempo migliora e spunta fuori un piccolo, leggero aumento delle temperature che porterebbero appunto gli amati asparagi ciao amici